Partire dalla Sardegna è stato sempre una sorta di viaggio in cui giri giri ma poi ritorni e quindi una sorta di sicurezza. In qualche modo la Sardegna, per quanto possa sembrare, è per me una delle poche sicurezze della mia vita. Il viaggio vero nella mia testa era quello del mare che dovevo salpare. Poi arrivato dall'altra sponda il mondo era tutto sommato estremamente vicino. Credo che questa cosa mi sia servita molto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.